Siamo collegati con il 126. Scusatemi che stiamo facendo un po' di ordine perché mi hanno disfatto tutte le vetrine, allora io volevo fare un secondo un po' di ordine. Continuiamo con le collezioni, io ringrazio le clienti che naturalmente ci hanno seguito fino adesso, dalle ore 15 che è il nostro appuntamento di ogni giovedì. Ancora meravigliosi caftani, ancora meravigliose collane e poi vi farò vedere questa collezione in seta pura. Stavo dicendo a Alex che è il nostro cameraman che riprendesse questo manichino perché sarà... A parte che adesso qua c'è un caos davanti di questi pezzi unici qui che li abbiamo lasciati e che eventualmente poi li rifacciamo vedere. Scusate che metto un po' di ordine. Prima di fare un secondo di pausa perché è dalle tre che veramente anche con questo caldo... Ecco, vi farò vedere, sono pezzi unici, se voi intanto volete prenotarveli... So che siete brave e furbe che ve li prenotate... Cosa devo dire, scusami? 500 grammi di seta, la misura Andrea fate a telaio con colori naturali, ce l'ho scritto anche qua. C'è una storia qua però da leggervi, è una bella storia da raccontare. Allora, abbiamo uno stilista che fa produrre il lotto, che fa produrre questa collezione che vi mostrerà e è una cooperativa ecosolidale. Allora, il 152, allora misurano Andrea, non ho capito, un metro e ottanta per ottanta. Abbiamo questa collezione in fucsa, il prezzo cosa abbiamo messo alla fine? No, no, questa è in seta, 150 mi sembra. Allora, state attente. Allora, questa è una collezione che viene presentata... Dove sono le cartoline? Allora, è una cooperativa... Andrea, hai due parole da spandere te adesso che io dovrei un ottimo... O no? No, è perché volevo andare un ottimo via. Allora, posso tranquillamente farvi vedere che... È una cooperativa senza finalità di lucro, poi... Eccola qua. Che abbiamo incontrato e praticamente la qualità innanzitutto della materia prima è seta di alta qualità, prodotta nelle foreste incontaminate del Vietnam. C'è il rispetto della natura, la materia prima 100% naturale, i colori ecologici certificati Azo Free, la lavorazione artigianale di prodotti fatti a mano dalle artigiane di Kraftlink, seguono le antiche tradizioni vietnamite. È la filiera etica certificata, un progetto ecosolidale, basato su principi di economia e di giustizia che garantiscono compensi dignitosi, rispetto dei diritti dei lavoratori e sostegno ai programmi di lotta alla povertà per le comunità vietnamite. Vi daremo tutte le cartoline anche a voi per anche saperne di più. Ed è un progetto ecosolidale. Noi abbiamo voluto lavorare con questa azienda perché produce ancora, come una volta, lavorano la seta al telaio. Lavorare la seta al telaio mi ha permesso di continuare a vivere nel mio villaggio e offrire ai miei figli l'opportunità di andare a scuola. Ho speranza nel futuro, il lavoro che mi ha dato la dignità di vivere, avere una casa e far crescere la mia famiglia. Un'artigiana Kraftlink di Thai Bin, Vietnam. Allora, quindi qua ci è sembrato un bellissimo, oltre che a fare cose meravigliose che adesso vi mostrerò, quindi Loom Fair Trade è una cooperativa senza finalità di lucro nata nel 2014 con l'obiettivo di sostenere progetti di commercio equo e solidale e instaurare rapporti e strategie condivise con i produttori e con le loro organizzazioni di riferimento. In seguito la visita nei laboratori test in Vietnam, con cui opera Kraftlink, importiamo sciarpe artigianali e accessori prodotti nel rispetto dei principi del commercio equo. Loom si ispira ai principi di economia solidale, quindi come vi ho detto prima, giustizia sociale e rispetto della dignità dell'uomo, riscoperta e valorizzazione delle tradizioni, rispetto della sicurezza e salute dei lavoratori, salvaguardia dell'ambiente, prefinanziamento ai produttori sugli acquisti, riconoscimento di un profitto giusto e dignitoso, sostegno ai progetti di lotta alla povertà nelle comunità più povere e promozione dell'inclusione sociale del lavoro per i gruppi vulnerabili, disabili e minoranze etniche. Allora, Kraftlink è un'associazione vietnamita che da vent'anni sostiene gruppi di artigiani con l'obiettivo di migliorare le loro condizioni di vita attraverso la commercializzazione e delle produzioni da loro realizzate. Un settore importante è quello delle sciarpe. Kraftlink si occupa di formare professionalmente gli artigiani su gestione di impresa, contabilità, valutazione dei costi e dei prezzi, design e controllo di qualità, promuovere e vendere i prodotti partecipando a fiere internazionali e presso i propri punti vendita in Vietnam, garantire compensi dignitosi alle artigiane tessili e reinvestire i profitti in progetti di sviluppo in favore dell'ambiente per la lotta alla povertà. Kraftlink è membro dell'Organizzazione Mondiale del Commercio Eco Solidale. Il rispetto per la natura, guardate che bella questa immagine, tessuti realizzati con filati 100% naturali, colori ecologici, certificati Azo Free, utilizzo di filtri per depurare le acque, lavori a tutta la produzione, dall'allevamento del bacco da seta alla filatura e alla tessitura è fatta con metodi manuali, da gruppi di lavoro composti da circa 25 artigiane. L'attività prevalente è la coltivazione del riso, ma i terreni coltivabili sono insufficienti per tutta la popolazione e la lavorazione della seta rappresenta una fonte integrativa di reddito molto importante per le comunità rurali, dove la povertà è molto diffusa. Lavoriamo filati pregiati che grazie al telaio di legno assumono una trama unica nel suo genere. Ogni prodotto realizzato è diverso dagli altri e racconta una storia tramandata con amore da molte generazioni. Ecco, allora, quindi abbiamo tre colori naturali, come vi diceva anche qua il rapporto è appunto di usare colori friendly, cioè che non inquinano i mari, che non inquinano i fiumi e che non inquinano noi, naturalmente. Allora, vi faccio vedere i quattro, prendo gli ordini perché questi sono pezzi unici, posso anche darli, ma comunque è seta pura, tramata, come vi dicevo, con gli antichi telai. Se mi dite i numeri dell'otto, che vado a cercarmeli. Dovevo fare la pausa, ma... Vi lascio poi con queste sciarpe e dopo con le collane. L'otto è 152, trovata. Ecco, parlavamo di telaio ed ecco quelle a telaio. L'otto è 152 colorottaneo, no? 152, 152, 152 colorottaneo. Allora, stola di seta lavorata tutta a telaio, colorottaneo, 70 per 1,90 m, profuma di una bontà, qualcosa di unico, veramente. Stola in seta pura, grezza, lavorata tutta a mano, a telaio. 500 grammi di seta. C'è scritto qua sulla... Eccoli qua, i telai. E costa 140 euro. Ogni volta che noi vendiamo un prodotto di questa azienda, avete capito il progetto, appunto, di Fire Trade. Sono tutte tessute, appunto, con fibre naturali, tinte ecologiche, azo free, senza metalli pesanti. Non sono dannose per l'ambiente, per chi le produce e per chi le indossa. Ogni creazione è unica e poi addirittura vi mandiamo anche tutti i consigli per il lavaggio. Sono produzioni in seta, in cotone, in lino. E se voi acquistate ogni oggetto che vi sto presentando adesso, sarà, appunto, devoluto a questo progetto Fire Trade. Allora, in ottanio, a parte che io mi ricordo esattamente anche, vi dico dove, ad Asolo, che noi facevamo le mostre di antiquariato, c'era una ragazza che produceva delle stole a telaio, con gli antichi telai meravigliose come queste, colorate, che le pagavamo allora 300 mila lire, 400 mila lire, perché non c'è più nessuno che fa telaio, non esistono più i telai. E poi i bacchi da seta vengono presi da, vengono allevati da loro. C'è tutto un lavoro di cooperazione per aiutare le popolazioni, appunto, anche a preservare l'ambiente, il territorio, a non essere sfruttate. Quindi abbiamo fatto tutte le quattro, guardate che le abbiamo pagate un sacco di soldi, perché valgono un sacco di soldi. È un prezzo speciale che vi abbiamo fatto, di 150 euro, per questi, 140, per questi quattro colori. Abbiamo fatto il verde ottani, abbiamo fatto il panna, abbiamo fatto il fucsia e abbiamo fatto questo bellissimo colore, cos'è? Un'acqua, un verde acqua, un colore acquerello, ok? Poi abbiamo fatto tutte le collane, qui adesso facciamo vedere anche tutte le collane, ogni collana, abbiamo fatto la collezione che si possono indossare anche insieme, sono lunghissime, adesso vi dico le misure, i numeri dell'otto e il prezzo. Le collane costano 39 euro l'una, tutte lavorate con la seta, beh guardate, queste a telaio sono un sogno, allora intanto sono pezzi unici, intanto sono tutte lavorate a telaio, e intanto sono dei capolavori, e intanto aiutiamo anche in un progetto questa cooperativa. meraviglioso quindi in verde acqua, e poi lo tolgo, meravigliosa in fucsia, tutti i colori naturali, eco friendly, certificati, non contengono metalli pesanti, meraviglioso questo colore, che poi c'è anche la sua collana, guardate, sembrano caramelle di seta. Tutti i colori che voi vedete nelle collane, poi si possono fare nelle sciarpe in seta, perché poi c'è anche la seta, un'altra bella storia, sempre con prodotti naturali, seta pura, quell'oro bacchi da seta, 49 euro 80 per un metro 80, di seta pura, twill di seta, hanno un profumo, vi arrivano profumatissime, con poi appunto la possibilità di ordinarli di tutti i colori. Intanto noi abbiamo fatto vedere come esempio il fucsia, sono delle nuvole, il bluet e il verde. Anche prima, tutti i colori arrivano. Tutti i colori arriveranno, eh? Intanto per presentare ho scelto i miei colori preferiti per questa stagione, che sono il fucsia, il bluet e il verde acido, sia nella versione appunto della grandissima stola in seta fatta tutta a telaio, 140 euro, meraviglioso. Allora le collane, poi vi dico i numeri del lotto, vi faccio anche vedere una cosa molto molto carina, che cos'è? È che ogni collana ha il suo sacchettino fatto a mano con la seta anche che lo chiude, che anche questo è veramente qualcosa che fa capire con quanta cura queste donne, è tutta di donne, è la cooperativa, con quanta cura queste donne lavorano. Vi faremo vedere la cartolina, ve la faremo avere anche a voi. colori meravigliosi, cosa volete che vi dica? Io ne proporrei anche due o tre al volo. Quanto sono lunghe, Andrea? 95. 95 centimetri, guardate. Allora, 39 euro l'una, abbiamo il colore lilla, 159, mi aiuti a metterle via, guarda, sennò impazzisco. 139, eventualmente, perché queste sono belle a prendere. Eh, queste sono belle tante, insieme. Se ne prendo più di una, sono 30 euro l'una. Allora, se ne prendete più di una, ve le facciamo 30 euro l'una, col suo sacchettino in organza, che riprende il fucsia. Se volete anche prendervi la sciarpa in seta, la fucsia a 49 euro è il 157. Se ne prendono in quantità, ci sentiamo al telefono. Ci sentiamo al telefono per gli ordini, magari le presenzeremo meglio anche giovedì prossimo, perché le nostre clienti non ci sono tutte. La 156 in questo meraviglioso verde e in questo meraviglioso bluette è il lotto numero 158. Le collane di seta, allora, costano 39 euro l'una. Lasciamoli qua, che sono delle nuvole. Togliamo magari questi che non vorrei che si rovinassero. Ed ecco adesso la presentazione dei colori. Allora, state attenti perché i colori sono... Io non ho resistito, li ho scelti... Ne ho scelti la metà, ce ne sarebbero ancora. Loro sono tutti colori naturali, sono meravigliosi. Ecco qua, guarda, li tiro fuori tutti. Allora, il giallo, che è questo. Stesso colore della sciarpa. è il lotto 163 giallo. 163 giallo, guardate la finezza del sacchettino, tutto fatto in seta e organza. 163, anzi, sapete cosa faccio? Me le metto. Potete tenerle lunghe così, però sono troppo lunghe, quindi noi abbiamo fatto la misura più lunga per essere state messe doppie. Poi i campioni magari li teniamo anche per giovedì prossimo. Allora, il color ciclamino, guardate che bellezza. No, non riesco a prenderla. Eccola qua. Seta. Seta pura. Il color ciclamino è l'868. Una cosa importante, mi hanno detto di dire, Lorenza, siccome i colori sono naturali e sono tinte a mano, potrebbero leggermente differire e poi una dall'altra, perché... Poi sì, naturalmente sono tutte fatte a mano, la lunghezza sarà quella, i colori che predominano certo, ma magari può essere leggermente... Sono tinte a mano. Sono tinte a mano. A testa l'uso di coloranti ecologici a zoofriccio e non dannosi per l'uomo e per l'ambiente. Il processo di tintura delle sciarpe prevede l'uso di vasche di decantazione e filtri che depurano l'acqua. Fibre naturali, quindi i filazzi utilizzati nella produzione delle sciarpe sono tutti naturali e provengono dalle comunità rurali vietnamite del progetto. Le donne protagoniste e i gruppi di lavoro sono costituiti al 90% da donne che si occupano di tutti i processi produttivi. La loro vitalità ha ridato un futuro alle giovani generazioni delle comunità rurali del delta del Fiume Rosso. Attenzione, questa è la seta. Ok. Progetto eco-solidale. Poi abbiamo l'arancio. Meraviglioso. Meraviglioso. E poi voi fatevi gli abbinamenti. Andrea ha detto che invece di 39 euro se ne prendete più di una vi facciamo 30 euro. Sono lunghe un metro, eh? 95 centimetri. L'azzurro celeste proprio. Questo è il celeste. È il lotto 161. L'ottanio è meraviglioso. È l'ottanio, un colore fantastico. È il lotto numero 165. Il bianco... Ascolta, questo è il bianco che è il lotto 166. Sì. Poi abbiamo il verde... Questo è blu. Poi abbiamo il verde. Meraviglioso. Il verde. Che li fate tutti gli abbinamenti con i caftani. Dammi qua un caftano, Andrea. Perché noi li abbiamo prese. Perché abbiamo detto ma queste sono perfette da anche abbinare a tutti i nostri caftani. Ha più di uno. Ecco, guarda. Guarda, vi mettete la collana con i caftani in seta, azzurra, e poi ve la mettete anche bianca, e poi ve la mettete magari anche viola, perché c'è dentro il viola anche, che ce l'ho, eccola qua. E poi voi vi fate tutti gli abbinamenti, e poi magari sopra vi mettete la stola che riprende, oppure quella azzurra che richiama il caftano. Ok? Quindi noi queste le abbiamo studiate anche proprio per creare quella moda che può andar bene sull'estate, su questi modelli colorati che vi abbiamo proposto. Allora, l'azzurro cielo. Ve le metto tutte qua, così poi scegliete, eh? Poi abbiamo fatto il grigio perla. Meraviglioso. Guardate il grigio perla, la lucentezza di questo grigio perla. Un grigio azzurro. È un grigio azzurro che è il 162. 162. L'abbiamo chiamato grigio perla in vista, eh? Per essere sicuro. E questo cos'è allora? Il 171. Un grigio. Allora. Il 171 è un altro grigio. Questo è il grigio perla, 171. Perché lo vedi che questo è più azzurro? E poi abbiamo fatto... Basta, eh? Non ve ne faccio vedere più. Però non potevo resistere perché qua ci sono tutti i colori abbinabili. Il bronzo. Il 164. E qua c'è l'ottanio vero. L'ottanio vero. L'ottanio. L'ottanio è il 167. E poi questo che è magnifico. Che è sui toni del verde. Il 169. Vediamolo. 169. Verde... Abbiamo tutti i colori praticamente. Sono molto cangianti, eh? E questo è l'869. Questo è marrone. Questo è verde. Il fango quasi. È difficile trovare tutti i colori. Allora, guarda. Questa è la collezione che abbiamo scelto per voi. Giallo. Fucsia. Arancio. Azzurro. Bluet. Grigio perla. Bianco. Grigio chiaro. Azzurro. Verde. Verde acido. Verde militare. Marrone. Verde ottanio. E poi, signore, ce ne sarebbero altri 10. Ah, guarda, mamma mia, è rimasto un lilla. Un lilla. Meraviglioso. E noi abbiamo scelto solo questo modello. Sinceramente, l'ottanio. Sinceramente, noi abbiamo scelto queste qua lunghe. Perché ci piaceva molto l'idea che con una... Con una eravate vestite, perché basterebbe comprarne una, è bellissima. La potete portare o semplicemente doppia, oppure la potete mettere lunga o a tre fili, addirittura. Tre fili. E quindi abbiamo proprio una collana meravigliosa per l'estate, per l'autunno, per l'inverno. Potete farvi gli abbinamenti che volete voi. Qui addirittura io proprio la proporrei... Io avrei fatto la proposta di tre. E qui però... Guarda, io mi farei l'arancio per adesso. Mi farei l'azzurra e mi farei la fucsia. Però dopo mi farei anche la gialla. Mi farei tutte, me le prenderei. Sono meravigliose. Sei sicuro Andrea? Vabbè che facciamo questo... È anche una questione di... Non è solo guadagno. Non è solo guadagno. C'è anche proprio sotto un progetto... Guarda. Guarda. Pensaci bene Andrea. Allora, 2 a 60, 3 a 80. Basta. Ve le lascio lì. Faccio un secondo di pausa. Mi faccio vedere un attimo. Magari sarebbe meglio vederle su un castano colorato. Perché no? Esatto. E voi scelgono i colori. Intanto allora Alex, per favore. Fai vedere il banco con i colori. Qui mettiamo il manichino. Io, intanto che voi scegliete, io vado un secondo a fare una pausa. Grazie. Voi. S 뜨avore. Grazie a tutti. 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 a tutti.